La Federal Reserve non si fermerà fino a quando tutti i mercati non crolleranno. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di quelli che sono gli indicatori di macroeconomia, facendo subito un'analisi sulle anticipazioni, sulle attese del mercato per quanto riguarda i tassi di interesse. Andremo a vedere questo grafico, ragazzi, la prima volta che vi mozzo questo tipo di tabelle, perché sono i tassi di interesse attesi dagli operatori istituzionali per il 2023 che dovrebbero anche questi spingere quelli che sono gli atteggiamenti dei mercati, quindi i mercati dipendono un po' da questo. Evidenziato il concetto che in pratica le crypto bitcoin in particolar modo sono estremamente legati in questa fase alla politica della Federal Reserve, andando ad analizzare questo tipo di dato noi riusciamo anche a cercare di comprendere cosa potrà aspettarci nei prossimi mesi sia nel mercato crypto sia nel mercato odd. Ci sono un po' di dubbi su quello che il prossimo anno, il 2023, ci porterà, quindi cosa avremo sotto Natale e da lì al prossimo anno 2023 per intero, perché in alcune situazioni, ragazzi, questa politica fortemente restrittiva da parte della Federal Reserve con un rialzo dei tassi notevole che è il più alto degli ultimi 20 anni, se non sbaglio, gli effetti che provocheranno sui mercati, sull'economia reale, sono ancora invisibili, quindi secondo una idea generale il 2023 sarà un anno di iperrecessione e di crash ulteriore dei mercati, perché da un punto di vista storico, ragazzi, i mercati finanziari raggiungono il loro minimo quando la questione è recessione e tocca il fondo. Questo perché, ragazzi, perché dopo un rialzo dei tassi di interesse solitamente abbiamo una recessione economica e quindi i mercati, se in una prima fase reagiscono male al rialzo dei tassi, in una seconda fase reagiscono male alla recessione economica e questo porta ulteriore fase di ribasso proprio nei mercati finanziari che in sostanza, ragazzi, potranno o dovrebbero, diciamo, iniziare a scendere e poi nel momento in cui arriva questa recessione, quindi questa fase recessiva e quindi per poi il 2023, questa SP500, iniziare una curva discendente alla chiusura di questa struttura che poi vedremo nella seconda parte del video essere anche una struttura di natura ciclica. Ora, questo fenomeno si è ripetuto veramente tante, tante volte ed è un po' una costante dei mercati finanziari, quindi la prima cosa che noi dovremmo andare a guardare è, punto primo, dove arriveranno i tassi di interesse della Federal Reserve, quale grafico ce lo indica, quali sono le attese degli istituzionali in modo da capire quando si fermerà il rialzo dei tassi, quindi la politica restrittiva. Seconda cosa, dovremmo andare poi a ragionare sulla recessione. Quali sono gli indicatori che potranno indicarci che il mercato sta andando in recessione, che l'economia mondiale sta andando in recessione? Intanto perché ci interessa anche singolarmente per chi, ognuno di voi, magari ha un'attività, una famiglia, eccetera, e quindi è corretto, diciamo, comprendere se arriva una recessione o meno. E poi, seconda cosa, perché alla fine di un'eventuale fase recessiva o l'impatto di questa recessione o l'intensità di questa recessione influirà sui mercati, perché una cosa è un trend ribassista, una cosa è un crollo totale, ragazzi, va bene? Perché potremmo avere un mercato che oscilla, magari fa una cosa del genere senza eventuali riprese, però magari senza toccare nuovi minimi rilevanti, è sempre SP500, oppure potrebbe avere una cosa del genere. Quindi come comprendete, insomma, sono due cose totalmente diverse. Da cosa dipende? Dall'entità della fase recessiva che avremo nel 2023, se ci sarà. Quindi se non ci sarà una fase recessiva, atteggiamento che si chiama soft landing, poi magari facciamo un video dedicato, i mercati potrebbero riprendersi molto più velocemente, se invece ci sarà una fase recessiva, quanto sarà intensa? Da qui dipendono i punti di arrivo del mercato. Nuovi minimi quindi certi per il 2023? Assolutamente no, perché come vedete ci sono una serie di possibilità, e proprio su queste, che andremo a ragionare. Nel prossimo anno, probabili nuovi minimi per il 2023? Sì, ma una cosa è la probabilità, una cosa è ovviamente la certezza. Allora, andiamo intanto a ragionare su quelli che sono i dati importantissimi. Allora, questo è un grafico, ragazzi, che indica quelle che sono le aspettative per gli investitori istituzionali legati alle proiezioni del punto di arrivo della politica restrittiva dei tassi di interesse. Quindi, quello che vedete in questo caso, diciamo, le proiezioni, sono intorno al 5,25-5,50%. In pratica, dall'attuale situazione, un altro punto percentuale. Quindi, teoricamente, ragazzi, per quanto riguarda le attese attuali, il mercato sta stimando che la Fed alzerà i tassi di interesse ancora per un altro punto percentuale. C'è poi anche una parte delle attese, che è questo, questi piccoli dot qui, che portano a 5,75. Quindi, un punto è 25, scusate il mio disegno mouse, per cento dall'attuale livello. Questo potrebbe indicare un rialzo di 0,50 più 0,50 più 0,25. Quindi, altri tre PONC dove la Fed alzerà i tassi di interesse. In sostanza, verso marzo barra aprile, la Fed dovrebbe, barra maggio, scusate, la Fed dovrebbe aver completato la sua fase di politica restrittiva. Ma quando abbasserà i tassi, i tassi solo e unicamente, vedete, dalla 2024. Qui c'è una confusione generale, perché, come vedete, le stime sono estremamente difficili da fare. Quindi, la stima più plausibile, i dot centrali, indicherebbe un ribasso, poi, dei tassi intorno al 4,25. Questo significa che si passerebbe dal 5,25 al 4,25. Quindi, un ribasso nel 2024 di un punto percentuale. in sostanza, tassi stabili, con leggeri aggiustamenti. Solo poi, nel 2025, ci sarebbe una fase ribassista un po' più importante. Queste, però, sono stime, perché neanche la Fed sa queste cose. Quindi, prendeteli, non con le pinze, con le super pinze, perché questi dati dipenderanno da miriade di fattori che nessuno potrà anticipare in questo momento, neanche la Fed stessa. Però, un concetto lo abbiamo, ragazzi. Cioè, per il 2023, un ribasso dei tassi, scordatevelo, assolutamente, non c'è nessun modo di avere un ribasso dei tassi di interesse, almeno con le attuali fasi di mercato. Solo una catastrofe in termini occupazionali e un, non so, un ribasso della infrazione per motivi senza senso potrebbe produrre un interventismo della Fed che probabilmente non alzerebbe i tassi ma magari tornerebbe a fare un quantitative easing per cammierare i mercati. Insomma, non so, ragazzi, però in questo momento non ci sono dati che ci fanno riflettere su un abbassamento dei tassi. Quindi la politica monetaria resterà restrittiva fino al 2024. Per l'intero anno 2023, scordatevi, spinte da nitro e da turbo sui mercati finanziari dovute alla Fed. c'è un altro problema però, c'è un'altra idea che dobbiamo ragionare. Ancora sarà restrittiva per metà anno, ragazzi, quindi l'anno, la fase difficile continuerà almeno fino a marzo perché poi i mercati diciamo scontano queste notizie. Da marzo in poi tutto si sposterà su una e una sola cosa, cioè la recessione, ragazzi. Arriva o non arriva la recessione. E di questo ne parliamo tra pochissimo. Allora, intanto andiamo a guardare quello che è un indicatore che ci può anche indicare al di là di questo grafico di quelle che sono le attese quando la Fed finirà la sua fase di rialzo dei tasti. Vi riprendo quello che era stato già uno dei indicatori che abbiamo visionato tempo addietro. Lo trovo sempre, lo so perché non lo trovo mai questo indicatore. Eccolo qua, che mi spugge sempre. Vabbè, allora, cioè lo spread farà quello che è l'inflazione e i Fed Fund. Come vedete e come vi anticipavo, deve scendere qui sotto, ragazzi, intorno alla 1, cioè deve pareggiare i Fed Fund, devono essere leggermente superiori o uguali al tasso di inflazione. In questo momento, quindi, l'attesa è che il tasso di inflazione scenderà entro marzo sotto il 5%, o vicino al 5%, in modo tale che la Fed possa portare i tassi di interesse sopra il 5%. Questo grafico, quindi, scenderà al punto di equilibrio, cioè intorno all'1%, leggermente sotto all'1, al valore di euro. Lì, la Fed avrà completato il suo percorso. Da lì in poi, tocca appunto al mercato, cioè, se il mercato andrà in fase iper recessiva, allora, i mercati finanziari continueranno a scendere, quindi, se l'economia andrà in fase recessiva, i mercati finanziari scenderanno, ragazzi, e continueranno a farlo, perché poi non si tratterà di una moneta che esce solo dal sistema finanziario, ma si tratterà proprio di un problema legato agli earnings, gli utili che non arrivano delle aziende, la disoccupazione che torna a salire, il PIL che crolla, il petrolio che non viene consumato, una cosa del genere spingerebbe ulteriormente a ribasso l'inflazione fino al punto cosiddetto di rottura in cui la Fed dovrà abbassare appunto i tassi per tenere in equilibrio questo livello. Quindi, se la recessione sarà potentissima solo nel 2023, probabilmente verso la fine, si potrebbe assistere anche a un aggiustamento dei tassi, ma non è quello che in questo momento si stima, perché i dati sulla recessione in questo momento non indicano una recessione iperforte e qui arriviamo un po' alla conclusione di questo ragionamento. Quali sono i dati che intanto dobbiamo andare a guardare perché indicatori del prossimo 2023 intanto il primo dato senza ombre di dubbio saranno gli earnings delle aziende ragazzi, perché se gli earnings delle aziende scendono e iniziano ad esserci i warning sugli utili, allora vuol dire che stiamo andando di recessione, però prima di questi earnings ci sono una serie di dati che sono lì indicator, quindi sono anticipatori. Intanto il consumo del petrolio per andare in recessione al consumo del petrolio deve crollare a picco. Poi ci sono dati legati ad esempio al PIL, il PIL inizia a diminuire man mano e poi ragazzi c'è un dato anche molto molto rilevante che è quello della fiducia dei consumatori perché ricordatevi che oggettivamente c'è anche un concetto legato proprio alla fiducia del sistema quindi in questo momento tutti questi dati non sono negativi anzi sono ancora estremamente positivi quindi se questa fase recessiva arriverà e ripeto se ragazzi arriverà nei prossimi mesi quindi già entro febbraio marzo si inizieranno a vedere quindi noi ci focalizzeremo su quelli che sono i dati anticipatori di questo movimento per comprendere questa variabile qui ragazzi poi vi dico anche un'altra cosa il mercato già sconta con perfezione che a marzo la Fed probabilmente avrà raggiunto il suo target di stretta monetaria che quindi le ulteriori strette di liquidità non ci saranno e questo è già scontato dal mercato quindi qualora la struttura recessiva non sarà estremamente negativa le possibilità che i mercati facciano nuovi minimi sono ridotte io questo ve lo dico ragazzi perché una volta che i giochi della Fed sono fatti se il mercato non va in recessione faremo un soft lending appunto un soft lending corrisponde al fatto che i mercati finanziari potrebbero tentare una ripresa una ripresa bomba una ripresa bolla assolutamente no perché se la Fed vede una cosa del genere torna a bastonare perché non vuole questo ragazzi quindi probabilmente un trading range laterale che sarà la soluzione più soft appunto a questa problematica perciò il 2023 si divide secondo me in due modi diversi e andremo nel prossimo anno a ragionare quale fase stiamo andando ad abbracciare perché in una andare in short selling oppure restare in cash in liquidità sarà fondamentale nell'altra invece utilizzare strategie di trading e utilizzare investimenti mirati laddove ci siano per esempio delle cripto che hanno una struttura di trend rialzista o delle stock che possono essere leggermente decorelate all'attuale momentum sarà molto positivo perché magari andiamo a comprare a sconto in quel caso veramente a sconto delle ottime aziende e fare degli ottimi investimenti quindi questi sono i due scenari dentro i quali dovremmo andare ad abbracciarci e l'unica insomma asticella che ci sposta da un lato all'altro sarà appunto la recessione se andiamo a guardare anche il dato dell'analisi ciclica sull'SP500 abbiamo una risposta anche a questa situazione ragazzi è una risposta estremamente interessante io vi metto quello che è un'analisi di natura di lungo periodo proprio su SP che è un'analisi che porta sostanzialmente l'idea che come vedete questa struttura ciclica che dovrebbe essere iniziata a giugno per quanto riguarda l'SP500 è una struttura ciclica che proprio sta in questo momento disegnando la sua fase di lateralità vedete sta facendo questa struttura laterale è vero che porterebbe un eventuale nuovo minimo perché è una struttura ribassista o in trading range non è obbligatorio fare un nuovo minimo è obbligatorio fare un doppio minimo cioè una fase di ribasso che riporti l'indice più o meno in questa zona 3500 3600 punti niente di che insomma fondamentalmente dagli attuali prezzi si tratta più o meno di un meno 9 meno 10 nell'anno 2023 e questo scade al giugno 2023 cosa assolutamente probabile perché un evento del genere che poi tra le altre cose ragazzi scade a giugno 2023 ma può prolungarsi anche fino a luglio ovviamente quindi l'estate 2023 una cosa del genere può avvenire con grande tranquillità ma non toglie ai trader quello che sono grandi opportunità perché anche nel lato nell'ambito della degli investimenti old per esempio fasi di eventuali recuperi con anche break di queste zone sono eventualmente possibili quindi qualora anche su questi tipi di trend ci siano delle strategie adeguate c'è tanto da fare anche nel 2023 anzi e se il 2023 è un anno di trading range si possono utilizzare le strategie legate ai trading range di lunga portata e questo ragazzi significa avere un bancomat per i trader perché il trading range per i trader è il DOP perché in quel caso si prende take profit gli stop sono ridotti non c'è tanta volatilità sulle resistenze perché non ci sono i falsi breakout e quant'altro e quindi è molto bello perché praticamente facciamo tum 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 va bene allora detto questo ragazzi abbiamo parlato un po' ragionando su quelle che sono le attese quindi attenzione al concetto di dire mercati cresceranno sicuro nel 2023 non è così dipenderà totalmente dalla recessione economica se avverrà o non avverrà oppure laddove ci sarà ci sia un'altra impennata di inflazione per eventi esogeni che ovviamente in questo momento non ci sono quindi solo qualora ci siano degli eventi esogeni in una certa elevatura potremmo assistere a cose del genere bitcoin seguirà questo iter seguiranno i mercati c'è una sorta di decorrelazione ma su questo noi parliamo in un prossimo video dovremmo un po' capire secondo me all'inizio del 2023 cosa legherà ancora i mercati cripto ai mercati old perché finita la questione della politica monetaria che è una cosa che lega l'intero sistema finanziario la questione recessiva non lega i mercati delle cripto da nessun punto di vista solo emotivo quindi cosa faranno i mercati cripto seguiranno vedremo ciao ragazzi ciao